Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dentro i volumi, nelle intercapedini scavate dai vettori o nella tana vuota ricoperta di foglie, vengono forse posizionati obiettivi che abbracciano un ampio arco di paesaggio, cercando informazione. Grazie a tutti. Il corpo vibrante sotto emette calore, emette calore. La materia elastica è disposta ai lati, tesa su un bulbo in espansione. Vengono fissati sul telaio oggetti di colori diversi. Talora, per la stretta, fuoriesce un fluido opaco, e il corpo vibrante sotto emette calore, emette calore. Sopra una distesa di luci e nervi, le cose corrono veloci. dietro il pendio è una volta convessa, in discesa, riflessa in verticale. Con l'aiuto di pinze, corridoi di gomma e traiettorie, vengono posizionate due telecamere alle estremità dell'oggetto, che si trova attualmente, secondo alcuni, dietro il frigorifero. Al rumore dell'accensione sullo schermo, appare improvvisamente il volto di una bambina che fissa l'obiettivo. Le vengono fatte domande, alle quali non risponde. Tempo minerale Corpo vitreo Tegumenti E più tardi, o allo stesso tempo, 27 immigrati rumeni chiusi dentro una camionetta vengono scoperti sul territorio e rinviati oltre il confine. In una teca del British Museum un uomo sumero in bronzo sta aspettando davanti a sé da quattromila anni con occhi lisci e senza pupille esplora a spazi siderali il rumore della membrana la bacca rossa che cade nel ruscello mentre nessuno passa e la bacca rossa che cade nel ruscello la bacca rossa che cade nel ruscello la bacca rossa che cade nel ruscello